E' stato chiarito ieri da Palazzo Chici, è strano questo rumore perché è un negoziato che va avanti da tempo e chi solleva oggi dei dubbi era il governo quando si faceva questo negoziato. Il ministro Gualtieri addirittura ha mandato una lettera scritta rendendosi disponibile a discutere del meccanismo di stabilità legato a cui c'è anche il bilancio dell'Eurozona e la garanzia sui depositi bancari, completamente l'unione bancaria e si è dato disponibilità a discuterne in Parlamento, quindi la sorpresa soprattutto degli europeisti dell'ultima ora è che se ne accorgono adesso di un negoziato che va avanti da mesi quando io e anche il ministro Gualtieri non eravamo quindi il Parlamento deve essere dotto, sarà dotto, ma la disponibilità è sempre stata piena. La posizione del ministro Gualtieri, non mi fate rubare il lavoro a lui, è sempre pronto a presentarla con tutti gli sviluppi del negoziato che ci sono stati, parte fatta già dal ministro Tria e parte che si concluderà da qui a dicembre però ribadisco quella che c'era nella nota di Palazzo Chigi ieri, nessuno ha firmato niente è un negoziato che va avanti da mesi, di cui soprattutto chi faceva parte del Consiglio dei Ministri doveva saperlo noi abbiamo fatto un comitato interministeriale, il CIA è proprio la settimana scorsa e uno dei punti all'ordine del giorno era proprio il negoziato sull'unione economica bancaria e uno dei punti all'ordine del Consiglio dei Ministri